Contro la Urbs Regina, nella gara di domenica prossima, valevole per la 35esima giornata della C, saranno possibili alcune variazioni per la Cavese rispetto all'undici iniziale antipotenza. Mister Giacomo Modica, nei primi giorni di allenamento della settimana, si è trovato senza il tersino Palomeche, che sta svolgendo terapie, avendo riportato una distorsione alla caviglia destra proprio nell'azione del gol del vantaggio Lucano, e inoltre il tecnico si è trovato senza Damiano Lia, il quale non è neanche tanto fortunato per la verità. Lia era rientrato contro il Potenza proprio per sostituire l'infortunato Palomeche. Ha giocato circa un'ora, però aveva dolore, e gli esami strumentali hanno evidenziato per il cursore di destra una frattura al primo metatarso. Quindi il dottor Luigi Trofa ha programmato per lui una consulenza chirurgo-ortopedica. Altro giocatore che denuncia qualche problema, di natura però muscolare, è Andrea Magrassi. L'attaccante ha lavorato a parte, così come il regista Andrea Migliorini. In compenso, potrebbero comunque tornare tra i convocabili l'attaccante esterno Rosafio, quanto è mancato nell'ultimo mese, e il centrocampista Pugliese, il quale ha avuto bisogno di tempo per smaltire un guaio muscolare. Al 13, ieri pomeriggio, la gara di recupero dello stadio De Simone di Siracusa è stata vinta dai padroni di casa contro il Rieti per 1-0, con gol segnato da Emanuele Catania. Così il Siracusa va a 36 punti, anche se rischia una nuova penalizzazione proprio a ridosso della fine del campionato regolare, per violazioni Covisoc. Il Siracusa rimiste Raciti, ha addirittura vinto più partite interne della Cavese. Ma ieri c'è stata soprattutto la vittoria della Viterbese Castrense sul campo del Trapani nella semifinale di ritorno di Coppa Italia di Serie C, dopo aver già vinto la gara di andata in precedenza. 2-1 il risultato finale ieri sera per la squadra di Antonio Calabro, che era sotto per la rete di Ferreira, ma poi ha ribaltato tutto con le reti di Mignanelli e Pacilli. I laziali sono dunque in finale e affronteranno nel doppio confronto il Monza. La gara di ritorno si giocherà a maggio e se la Viterbese vincerà la Coppa, dopo essersi piazzata nel girone C tra il secondo e il decimo posto, in quel caso andrà ai playoff e lascerà un posto per gli spareggi all'undicesima classificata.